Salve a tutti, oggi vi presentiamo il seggiolino auto Cybex Solution X. Indicato per bambini dai 3 e 12 anni circa, può ospitare dai 15 e 36 kg di portata. Per niente pesante, è facile da installare, ha un'omologazione universale e può essere utilizzato in tutti i veicoli dotati di cintura standard a tre punti di ancoraggio. Fatto di tessuto traspirante lavabile in lavatrice a 30 gradi, è disponibile anche in altre colorazioni. Il poggiatesta reclinabile è brevettato in tre posizioni, un sistema ingegnoso che aiuta a prevenire la caduta in avanti della testa quando bambino si addormenta. Per il montaggio è sufficiente agganciare lo schienale alla base attraverso il gancio, alzarlo fino a che non si incastra ed infine, se necessario, inserire il supporto per peso oltre i 22 kg. Il fissaggio in automobile è semplice e guidato. La cintura va fatta passare nelle fessure colorate in rosso. Dotato di sistema LSP, assorbe sistematicamente la forza d'urto in caso di incidente con impatto laterale. Inoltre, ha l'altezza regolabile in ben 11 posizioni, il che permette al seggiolino di crescere con il bambino. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it